Buongiorno ragazzi e benvenuti alla seconda parte della nostra lezione sulla Germania degli anni 30, sull'avvento del nazismo e sull'organizzazione del potere nazista nel paese nel decennio appunto degli anni 30. Siamo sul nostro libro a pagina 215, per cominciare come introduzione ho pensato di mostrarvi la seconda parte di quel documentario brevissimo che avevamo visto già l'altra volta e poi un altro documentario, un riassuntone della lezione di oggi e poi cominciamo. Alle elezioni del 1932, pertanto, il partito nazista ricevette un altissimo numero di voti. Hitler fu nominato cancelliere e incaricato di formare il governo. Una volta al potere, Hitler iniziò a smantellare le istituzioni democratiche. Nel 1933 venne appiccato il fuoco al Parlamento, il Reichstag, e sebbene i responsabili fossero probabilmente i nazisti stessi, ne approfittò per accusare i comunisti. Molti furono arrestati e il loro partito fu messo fuori legge e introdurre severe norme repressive. Furono cancellate le libertà di stampa e di associazione, licenziati gli ebrei e i presunti oppositori del regime, e fu varata una legge che attribuiva al governo pieni poteri. Per consolidare la propria posizione, Hitler diede l'ordine di eliminare i vertici del gruppo delle S.A., ormai fuori dal controllo del governo, perché seguivano fedelmente gli ordini del loro capo, Ernst Röhm. Questo massacro, chiamato Notte dei lunghi coltelli, fu condotto da un contingente militare fedele a Hitler, le SS. SS, sigla che identifica le squadre di difesa, cioè l'organizzazione paramilitare del partito nazionalsocialista tedesco, nata come milizia personale di Adolf Hitler. Nello stesso anno, alla morte di Hindenburg, il presidente della repubblica, Hitler assunse anche questa carica. Ogni traccia delle istituzioni repubblicane venne dunque cancellata. La Germania si era trasformata nel Terzo Reich, ossia il Terzo Impero tedesco, dopo il Sacro Romano Impero sorto nel Medioevo e l'Impero tedesco nato nel 1871. Hitler divenne il Führer, cioè il capo supremo del Reich e dei tedeschi. Una volta alla guida dello Stato, Hitler iniziò il suo progetto di rafforzamento della Germania. Diede quindi nuovo impulso all'economia, avviando il riarmo e incentivando la produzione industriale. Proprio come il fascismo, anche il nazismo fu un regime totalitario, in cui lo Stato si occupava di ogni aspetto della vita dei cittadini, facendo largo uso della propaganda e servendosi dei moderni mezzi di comunicazione, quali il cinema, per consolidare il consenso popolare. Ogni forma di dissenso, poi, veniva perseguita e duramente punita. Gli oppositori venivano direttamente uccisi oppure deportati in campi di lavoro. Nel 1935 vennero emanate le leggi di Norimberga, che prevedevano durissime discriminazioni per gli ebrei. Essi furono privati della cittadinanza, esclusi dall'esercizio delle libere professioni e dal diritto di voto. Furono vietati i matrimoni e i rapporti sessuali fra ebrei e non ebrei. La discriminazione antisemita si trasformò ben presto in una vera e propria persecuzione. Nella notte fra il 9 e il 10 novembre 1938, in diverse città tedesche si scatenò un'ondata di violenza durante la quale migliaia di negozi ebrei e sinagoge furono devastati, decine di persone vennero uccise e migliaia deportate. Fu la cosiddetta Notte dei Cristalli. Tra il 1938 e il 1939, oltre 200.000 ebrei riuscirono a fuggire dalla Germania, salvandosi dallo sterminio del popolo ebraico, che sarebbe iniziato di lì a pochi anni. Bene, e adesso, sempre come introduzione, vediamo un altro breve documentario che è proprio il riassunto della lezione di oggi, quindi l'instaurazione del potere nazista nella Germania e poi anche uno sguardo su quello che succede nel resto d'Europa. I nazisti tentano un colpo di Stato che fallisce. Adolf Hitler viene rinchiuso in carcere, dove scrive il suo manifesto politico. Tornato in libertà, Hitler prende il potere grazie all'appoggio della destra conservatrice e al consenso del popolo, nutrito dallo scontento per la crisi economica. Hitler trasforma lo Stato accentrando il potere nelle proprie mani e imponendo un governo autoritario. Assumendo anche la carica di Presidente della Repubblica, Hitler diventa capo assoluto della Germania. Il Führer vuole preservare la purezza del popolo tedesco, inventandosi un nemico esterno, gli ebrei, emarginati dalla società tramite leggi razziali. Nel 1938 inizia la loro deportazione, assieme a zingari, omosessuali e oppositori politici, nei campi di concentramento. Nel frattempo, in Russia, dopo la morte di Lenin, Stalin ottiene il potere e applica una politica autoritaria che porta a un forte sviluppo economico a costo di grandi ripercussioni sociali. Iniziano anche persecuzioni politiche e deportazioni in Siberia, di tutti gli oppositori del regime sovietico. In Spagna, dopo anni di dittatura, Miguel I di Rivera lascia il potere e anche il re abdica. Nasce una Repubblica Democratica. Nel 1936, la vittoria della sinistra lacera il paese. La destra si oppone alla laicizzazione e alla modernizzazione e inizia la guerra civile. Nonostante l'intervento dei volontari delle Brigate Internazionali a favore del fronte repubblicano, Francisco Franco, appoggiato da fascisti e nazisti, vince il conflitto. Bene, allora, dopo questa introduzione passiamo al nostro libro, ragazzi. Vi ricordo che siamo a pagina 215 e cominciamo a guardare un po' come si comportano i nazisti al potere. Vi ricordo che nel gennaio del 1933 Hitler ottiene il compito di formare un nuovo governo e comincia a plasmare la Germania secondo la sua visione, quella che avevamo già analizzato quando abbiamo parlato della sua opera principale, Mein Kampf. Allora, il nazismo controlla tutta la società. I giovani alla scuola. Così come il fascismo, ecco il primo elemento, è il parallelo con il fascismo al quale il nazismo, almeno all'inizio, si ispira, anche il nazismo ebbe come primo obiettivo il controllo e il dominio sulla vita dei tedeschi. I giovani alla scuola, le donne alla religione, il mondo del lavoro e il tempo libero furono disciplinati attraverso un gran numero di istituzioni e organizzazioni che regolavano la vita dei tedeschi. Quindi il tempo libero era molto compresso nella società nazista. Se avevi del tempo libero dovevi dedicarlo a istituzioni, organizzazioni, parate, esercizi ginnici, un po' come era sotto il fascismo. La Hitlerjugend, o gioventù hitleriana, comprendeva oltre 8 milioni di ragazzi dai 14-18 anni ed erano impegnati per due giorni e mezzo alla settimana. Quindi un bell'impegno. in Italia c'erano i figli della lupa, l'opera nazionale Balilla, le giovani avanguardiste, eccetera, eccetera. Anche la scuola non restò immune da questa trasformazione della società di stampo nazista. In che senso? Nel senso che furono avvarati nuovi programmi di storia, ovviamente, che raccontavano la storia ritrosa partendo da Adolf Hitler e giungendo attraverso una galleria di eroi al mitico Arminio, il mitologico Teutone che aveva combattuto le legioni romane. Vi ricordate, avevamo parlato anche quando avevamo analizzato il Mein Kampf, Hitler sosteneva che la razza ariana fosse la razza superiore a tutte le altre, anticamente dominava il mondo, poi era troppo saggia, troppo perfetta e gli elementi che potevano contaminarla ne erano sempre più forti, cioè le razze inferiori, ovviamente, e quindi a un certo punto gli ariani decidono di nascondersi nel centro della Terra, dove, secondo la mitologia nazista, ancora riposano in attesa di un nuovo dominio della razza teutonica ariana tedesca. Quindi la storia veniva raccontata in questo modo qui. nella storia fondamentale, nella scuola fondamentali erano anche tutti i trucchetti che i ministri della propaganda mettevano in atto per dirigere in un certo senso lo sviluppo mentale dei giovani, ad esempio, i problemi di aritmetica. Il problema di aritmetica all'elementare suonava un po' così. se un pazzo costa allo Stato quattro marchi al giorno e ricoverati negli ospedali statali sono 300.000 quanto si risparmierebbe se venissero tutti eliminati? Questi e tanti altri problemi, adesso meno segnato soltanto uno. Però, per capirci, si insisteva moltissimo in matematica sulle operazioni e sui calcoli che consentivano l'applicazione in uso militare quindi i calcoli di balistica i moti eccetera 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 Per quanto riguarda le scienze biologiche si insisteva moltissimo sul darwinismo un malinteso darwinismo ovviamente però l'idea come quando avevamo parlato del darwinismo sociale degli anni dei primi del novecento era che nel mondo esistono degli individui superiori più adatti a sopravvivere degli individui inferiori che la selezione naturale porterà alla morte e quindi all'estinzione e tutta la società è leggibile in questa chiave quindi una lotta sia a livello politico tra paesi dominatori e paesi che devono essere dominati sia a livello proprio sociale tra individui superiori e individui inferiori ad esempio disabili sordi persone con la sindrome di Down comunisti ebrei ovviamente rom cioè zingari vulgarmente omosessuali eccetera 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 il debole ovviamente doveva essere spazzato via cosa diceva Hitler nei centri del mio nuovo ordine verrà allevata una gioventù che spaventerà il mondo io voglio una gioventù che compia grandi gesta dominatrice ardita è terribile gioventù deve essere tutto questo essa deve sopportare il dolore non deve avere nulla di debole o di effeminato la farò estruire in ogni esercizio fisico voglio una gioventù atletica questa è la prima cosa più importante attenzione non voglio un'educazione intellettuale il sapere mi rovina la gioventù ma i giovani devono imparare il senso del dominio eccetera 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 quindi l'idea di Hitler era e anche di Mussolini era di avere una gioventù atletica indottrinata con poche idee ma molto molto chiare di stampo ovviamente ideologico nazista e pronte a che cosa ad assumere il ruolo che la storia ha assegnato loro cioè quello di diventare i dominatori del mondo il lavoro e l'economia Hitler una volta abolito il diritto di sciopero e eliminato i sindacati puntò all'indebolimento della classe operaia attraverso la creazione del fronte tedesco del lavoro un po' come era successo in Italia con la camera delle corporazioni e infatti lo dice con la camera delle corporazioni i sindacati vengono sciolti tutti si riuniscono padroni e lavoratori in un'assemblea che si chiama fronte tedesco del lavoro in cui i lavoratori contano molto poco gli si racconta della bellezza del lavoro della nobiltà dello sforzo per rendere grande la Germania ma i salari rimangono abbastanza compressi c'è una grande è inutile nasconderselo ragazzi negli anni 30 Hitler compie un miracolo economico in Germania c'è una crescita economica indiscutibile ma è una crescita economica media in che senso? nel senso che la produzione delle armi la produzione di infrastrutture quindi ferrovie strade eccetera ha una gran parte un grande ruolo in questa crescita economica ma la produzione di beni di consumo il benessere dei lavoratori della popolazione eccetera eccetera contano meno in questa crescita economica eh nel tempo libero dei tedeschi veniva organizzato dal nazismo sul modello del dopolavoro fascista quindi si mirava al controllo delle masse e c'era un ministro per la propaganda questo è importante dobbiamo ricordarcelo Joseph Goebbels che esercitava il controllo sulle opinioni dei tedeschi adesso vediamo un po' più nel dettaglio chi era questo Joseph Goebbels Joseph Goebbels uno dei più stretti collaboratori di Adolf Hitler è il ministro della propaganda del regime nazista Joseph Paul Goebbels nasce il 29 ottobre 1897 a Wright cittadina industriale scusate se impiantato perché mi tradisci una malattia contratta durante l'infanzia rallenta la crescita della gamba sinistra rendendo lo zoppo l'invalidità gli impedisce di arruolarsi come volontario per la prima guerra mondiale deluso prosegue gli studi e si laurea in filosofia all'università di Heidelberg nel 1922 rimane affascinato da un comizio di Adolf Hitler e si iscrive al partito nazionalsocialista quattro anni dopo è responsabile della sezione di Berlino Herr Doktor come viene chiamato nel partito inizia la propria ascesa Goebbels si rivela un maestro della propaganda riesce istintivamente a mettersi in comunicazione con le masse con straordinaria facilità crea il mito del Führer Adolf Hitler il condottiero che guiderà la Germania al riscatto dopo la sconfitta nella grande guerra l'abilità di Goebbels e le capacità oratorie di Hitler permettono ai nazisti di raggiungere il potere quando Hitler viene nominato cancelliere il 30 gennaio 1933 il fedelissimo Goebbels diviene ministro della propaganda a 35 anni dall'alto della nuova carica Goebbels raggiunge il controllo di ogni forma di comunicazione della Germania utilizza con intelligenza radio, cinema e carta stampata crea l'imponente immagine del regime organizza monumentali parate che celebrano la forza di Hitler e del partito e costruisce grandiosi apparati scenografici per i discorsi inventa e mette in scena cerimonie che colpiscono l'immaginazione del popolo su suo ordine per esempio vengono bruciati in piazza i libri non conformi all'ideologia nazista in modo graduale e sistematico costruisce la cultura della razza eletta e l'avversione nei confronti degli omosessuali dei comunisti degli ebrei degli handicappati e degli zingari nel 1939 con lo scoppio della seconda guerra mondiale Goebbels pianifica strategie capaci di tenere alto il morale delle truppe e di convincere il popolo della necessità dei sacrifici che sta compiendo durante tutto il conflitto Herr Doktor è uno degli uomini più vicini a Hitler nell'aprile 45 la Germania è a un passo dalla sconfitta e l'armata rossa è alle porte di Berlino Goebbels e la sua famiglia non lasciano la capitale restando insieme a Hitler nel suo bunker il Führer si suicida il 30 aprile affidando a Goebbels il comando per non cadere in mano ai sovietici il primo maggio 1945 Joseph Goebbels e la moglie Magda si suicidano ecco volevo risparmiarvi quelle immagini un po' pesanti allora bene cioè male alla pagina successiva pagina 216 abbiamo un'immagine che possiamo guardare analizzare un momento perché si presta ad alcune considerazioni allenamento per l'esame adunate scenografiche propaganda una scena del film Il trionfo della volontà centomila uomini dell'SS e dell'SA schierati davanti a Hitler allo stadio di Dorenberg qui allora possiamo dare un'occhiata a com'erano queste adunate oceaniche queste parate estremamente scenografiche organizzate dal regime il regime aveva un ministro apposito che era Sperz che era l'architetto di Hitler che appunto progettava queste scenografie per riempirle c'erano ovviamente le SS le SA e la popolazione tedesca dove nella quale tra la quale comunque il consenso al nazismo era sempre più forte Hitler parlava dal palco con una grande amplificazione in modo che tutti potessero ascoltare queste immagini venivano volentieri inviate alle agenzie di stampa estere in modo che facessero il giro del mondo erano immagini sia a uso interno che a uso internazionale qui cominciamo a conoscere una delle più grandi più famose storiche dei del novecento e del periodo appunto del nazismo del fascismo dello stalinismo tra le due guerre Anna Arendt era una filosofa tedesca che fu costretta a emigrare e scrisse un libro molti libri in effetti sul totalitarismo secondo lei nazismo e stalinismo sono stati totalitari la categoria del totalitarismo ok totalitari perché perché se Hitler che Stalin erano i vertici di un sistema di dominio che dava al capo carismatico un potere illimitato e senza controllo su un insieme di individui ridotti al puro stato di masse indifferenziate quindi che cos'è lo stato totalitario è uno stato in cui somiglia un po' ragazzi alla monarchia assoluta del re sole del 600 in Europa più o meno nel senso che c'è un uomo solo al comando non perché come nella monarchia assoluta è figlio di suo papà che faceva il re prima di lui ma perché è riconosciuto dal suo partito innanzitutto e poi dalla nazione come un leader carismatico al quale con un grandissimo slancio di fiducia affidare le sorti del paese per raggiungere il sogno raccontato dalla propaganda sia fascista che nazista che stalinista lo stato totalitario quindi è uno stato in cui c'è una persona sola al comando ok comando in che modo in modo totale la popolazione totalitarismo appunto vuol dire controllo totale della vita dei cittadini dalla culla alla tomba dal lavoro al tempo libero dallo svago alla vita familiare dalla vita religiosa eccetera 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 ok secondo la Arendt nazismo e stalinismo sono stati dei paesi totalitari perché appunto Hitler e Stalin erano dei dominatori assoluti contrastati nei loro paesi invece il fascismo secondo la Arendt non è stato un'esperienza completamente totalitaria perché se vi ricordate nella lezione del fascismo ne avevamo parlato Mussolini era l'uomo che deteneva il potere assoluto più o meno perché aveva dovuto fare un accordo con il re quindi c'era la monarchia che comunque firmava le leggi i decreti del governo Mussolini e la trattativa tra questi due poteri c'era ed era costante Mussolini poteva fare quello che voleva poteva fare tante cose che voleva ma non tutte perché comunque c'era il re che poteva porre il veto e in più 1929 concordato con la chiesa cattolica compromesso con l'altro grande potere italiano quindi Mussolini era un dittatore certo ma era un dittatore completamente totalitario no perché appunto era dovuto scendere a compromessi con la monarchia da una parte e la chiesa dall'altra che hanno governato insieme a lui per vent'anni io salterei questa parte del testo dell'Aret che è un po' difficilotta diamo un'occhiata ai giochi olimpici del 36 che furono un'esperienza comunque in mondo visione il primo la prima olimpiade anzi la prima manifestazione trasmessa in mondo visione allora del 36 appunto a Berlino furono organizzate le olimpiadi ovviamente Hitler se ne servì per propagandare e valorizzare il regime l'organizzazione tecnica fu perfetta vengono costruite strade stadi eccetera 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 moltissime persone 100.000 spettatori 3400 sportivi ovviamente ci fu una discriminazione degli atleti ebrei degli atleti di colore eccetera eccetera ricordiamo le olimpiadi di Monaco del 36 no di Berlino del 36 scusate Jesse Owens Jesse Owens che è questo signore qui che vi mostro scusate questa è per dopo Jesse Owens è questo signore qui che diede uno smacco ad Hitler perché pur essendo di una razza secondo i nazisti inferiore in un paio di giorni stabilì ben quattro record olimpici vincendo quattro ori cos'era 100 metri gli ostacoli il salto in lungo e non mi ricordo più che cosa ok e questa è la premiazione di Jesse Owens vedete che lui sta facendo il saluto militare ha una corona dall'oro vediamo se si vede un po' meglio qui ha una corona dall'oro ma il terzo classificato è un atleta tedesco e quindi fa il saluto nazista e i giudici ovviamente e tutto il pubblico attorno a lui fanno il saluto nazista che è questo qui ok braccio destro teso bene andiamo adesso a pagina 218 la persecuzione anti-ebraica e ci addentriamo un po' di più in che cos'era la propaganda per il nazismo e quali sono stati i temi tipici della propaganda nazista allora che cos'è la propaganda la propaganda è un qualche cosa una parola che è stata inventata nel linguaggio pubblicitario propaganda significa entrare nella testa delle persone e inserire un'idea la pubblicità inserisce di solito un bisogno ho bisogno del nuovo telefono ho bisogno delle nuove scarpe eccetera eccetera la propaganda stimola il bisogno e poi la persona soddisfa il bisogno andando ad acquistare le tecniche di propaganda cioè le tecniche che permettono di convincere una persona di instillare nella testa di un uomo o di una donna un'idea sono state poi abilmente utilizzate da tutti i regimi totalitari innanzitutto il fascismo poi il nazismo poi lo stalinismo per accrescere all'inizio il proprio potere e poi mantenerlo ben saldo leggiamo che cosa scriveva Hitler riguardo alla propaganda dal Mein Kampf le grandi masse del popolo dice Hitler nel Mein Kampf non vi ho messo la pagina però fidatevi non sono costituite da diplomatici o professori di giurisprudenza pubblica né semplicemente di persone che sono in grado di formare un giudizio ragionato in determinati casi ma è una folla vacillante di bambini che si trovano costantemente in bilico tra un'idea e un'altra quindi Hitler cosa dice il Mein Kampf attenzione la propaganda che è quest'arte di convincere le persone deve trarre i messaggi non come se le persone fossero tutte dei diplomatici o dei professori di giurisprudenza ma deve immaginarle come dei bambini come una folla vacillante di bambini con idee molto semplici facilmente influenzabili smemorati e tarare i messaggi a quel livello lì un politico italiano qualche anno fa diceva ai suoi alleati parlate nei comizi al pubblico come a una folla di bambini con la quinta elementare neanche con la terza media con la quinta elementare perché quello è il livello della massa secondo lui per quanto riguarda i metodi da impiegare Hitler spiega che il potere recettivo delle masse è molto limitato e la loro comprensione è debole cioè le masse sono tonte bambini con la quinta elementare d'altra parte si dimenticano anche in fretta sono smemorati stando così le cose ogni propaganda efficace deve limitarsi a poche cose essenziali e quelle devono essere ripetute per quanto possibile in formule stereotipate questi slogan devono essere poi ripetuti con insistenza fino a che anche l'ultimo individuo venga a cogliere l'idea che gli è stata messa davanti ok quindi pochi slogan molto chiari tarati per bambini con la quinta elementare ripetuti costantemente per settimane mesi anni venivi interrogato dal maestro elementare dal parroco dal papà dalla mamma dal capo squadra quando andavi la gioventù hitleriana su pochi concetti ma chiari a tutte queste persone tu dovevi obbedienza e dovevi ripetere i messaggi ideologici gli slogan ideologici del regime poi andiamo avanti hitler quindi con questa tecnica della propaganda fonda un'ideologia che cos'è un'ideologia è un modo di vedere il mondo un'ideologia può essere un'ideologia nazista il mondo è fatto da razze superiori e inferiori noi siamo quella superiore abbiamo bisogno dello spazio vitale eccetera eccetera può essere un'ideologia religiosa non lo so l'ideologia cristiana noi siamo su questo mondo per guadagnarci la salvezza ed evitare il peccato al termine della nostra vita Dio ci assegnerà al paradiso procuratore dell'inferno in attesa della fine dei tempi eccetera 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 e quindi ideologia è non è una singola idea è un complesso di idee che danno una spiegazione del mondo per così come lo vediamo e danno normalmente uno scopo lo scopo del nazista è rendere la Germania più forte lo scopo del cristiano è guadagnarsi la salvezza lo scopo del comunista è realizzare il paradiso in terra abbattere il sistema capitalista eccetera eccetera ok fin dalla nascita del suo movimento Hitler esaltò il concetto di razza sostenendo che soltanto i puri gli ariani potevano far parte dell'azione tedesca perché erano geneticamente superiori agli altri si era tedeschi insomma per diritto di sangue tedesco si era innato da genitori tedeschi non potevi diventarlo si era ariano quindi e si era ariano avresti dovuto vivere il nuovo vastissimo impero il Reich il terzo Reich che doveva trovare uno spazio vitale ne abbiamo parlato eccetera 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 se diamo un'occhiata più da vicino a com'era questa propaganda ecco questa è semplicemente una cartina della Germania vedete del 39 però è una cartina che non è neutra apparentemente sembra semplicemente un'espressione geografica ma se notate la scelta dei colori vi rendete conto che se la Germania è bianca e tutti gli altri paesi sono neri che effetto fa? fa l'effetto di un paese circondato dai nemici circondato eh poi dai nemici si sa insomma sono francesi si sa che sono nemici eh sono russi si sa che sono nemici ok quindi anche le cartine le mappe eh nel nella scuola nazista non erano neutre hm qui abbiamo i soliti posti eh contesi la Rür poi tutta la zona l'Austria è segnata come una zona in cui vivono dei tedeschi vivono degli ariani e quindi sarebbe giusto che prima o poi anche l'Austria facesse parte dell'impero tedesco perché anche lì ci sono tanti bravi ariani che possono lavorare insieme a noi vi ho preparato poi un po' di manifesti hm la propaganda si nutre anche di immagini pubblicitarie e manifesti vedete eh questo è un manifesto nazista con un ebreo hm si capisce benissimo perché è vestito in modo elegante gli ebrei notoriamente sono ricchi eh sono tutti uguali nel senso che hanno il naso aquilino eccetera eccetera ha il marchio per maggiore chiarezza di giudeo vedete la stella di Davide questa stella arancione e ovviamente sotto questo cappotto sarà pieno di sacchetti d'oro un'altra caricatura abbastanza grottesca del giudeo quindi sempre il naso la barba eccetera eccetera ecco anche questa molto chiara il giudeo che conta le monete d'oro su un mucchio di teschi ovviamente ariani questo è questa è l'olocandina dell'ebreo errante che è un film molto importante della propaganda nazista vedete le tipiche monete d'oro eh e ovviamente affiliazione vicinanza al comunismo eh ebrei e comunisti a un certo punto vennero ritenuti dai nazisti la stessa cosa il braccio nazista che sconfigge l'ebreo ecco questo mi sembra molto significativo bandiera del regno unito bandiera americana bandiera dell'unione sovietica ma dietro queste grandi potenze nemiche chi c'è? c'è un complotto ebraico un complotto internazionale degli ebrei appunto uniti in una lega internazionale segreta ovviamente potentissima che mira al dominio del mondo e poi ce n'era un'altra che volevo mostrarvi ecco la solita associazione ebreo ratto di cui abbiamo già parlato poi ecco un'altra immagine secondo me molto interessante che è questa qui è una mappa elaborata dai nazisti ovviamente è una mappa razziale dell'Europa noi non siamo abituati perché per fortuna questo concetto questo strumento della razza è stato abbandonato da tempo perché è assolutamente infondato a livello biologico però a quei tempi ci credevano elaboravano appunto delle mappe in questo senso anche questo è un cartogramma come abbiamo visti tanti che riporta dei dati falsi inventati ovviamente però vedete che la parte rossa è quella dove ci sono gli ariani poi man mano il rosso si scolora in giallo che ci sono dove sono gli ariani del sud che sono sono ariani anche loro però sono inclini al sentimento chiacchierano un po' troppo lavorano un po' meno sono un po' più fannulloni anche questo giallo poi degrada nell'azzurro questi sono gli ariani mediterranei che sono sempre ariani anche loro ma quelli proprio sono dei chiacchieroni gesticola non lavorano mai eccetera eccetera ce n'è uno uno che si salva Mussolini Mussolini è l'unico che è riuscito a rimettere in piedi l'Italia e dargli una schiena dritta ma se non fosse per lui anche gli italiani insomma sono piccolini sono tutti scuri sono riccioli insomma sono ariani anche loro sì ma meno di noi sicuramente poi da questa parte ci sono le razze proprio inferiori gli slavi infatti qui si apre un corridoio poi per l'avanzata nazista nella seconda guerra mondiale e ovviamente nel nord africa non c'è neanche da parlarne lì sono una razza come quella degli ebrei completamente inferiore da utilizzare se possibile ma sterminare il prima possibile prima che possa inquinare il nostro sangue puro tedesco poi volevo mostrarvi c'erano delle immagini ecco altri manifesti anti-ebraici gli ebrei si riconoscono almeno le razze inferiore si riconoscono dal cranio c'era la la specialità della casa in quel periodo era la misurazione del cranio per capire dove fossero i difetti dove fossero i pregi c'era l'idea che a seconda della forma del tuo cranio tu sviluppavi di più che ne so l'intelligenza piuttosto che la tentazione di rubare e poi basta direi torniamo al nostro libro perché adesso parliamo di Hitler le leggi di Norimberga legalizzano il razzismo contro le razze non puoi ah qui di fianco vi ho fatto questa questa piramide la piramide delle razze vedete all'incima ci sono gli ariani germanici poi gli scandinavi i francesi gli inglesi che sono ariani anche loro ma non tanto c'è qualcosa che non va nel loro sangue si capisce sono democratici sono persone insomma non ci si può fidare poi ci sono gli ariani mediterranei cioè gli spagnoli gli italiani i greci e poi c'è proprio la base della piramide che rimane schiacciata da tutti gli altri cioè gli ebrei gli slavi i neri i polacchi e in generale i gialli cioè gli orientali che cosa succede con queste leggi di Nuremberga nel 35 il razzismo contro le minoranze etniche e contro gli ebrei in particolare divenne sempre più intransigente cioè c'è un giro di vite in questo senso riguardo alla repressione delle razze inferiori che non soltanto erano inferiori ragazzi ma venivano propagandate come un pericolo se noi ci mescoliamo con loro e vivendo insieme è possibile che ci mescoliamo il nostro sangue verrà inquinato verrà guastato verrà compromesso da questo incrocio e allora e allora i nostri figli saranno ovviamente non più ariani tedeschi ma dei beticci dei misti che saranno l'anello debole della della nazione ma noi vogliamo una grande Germania e quindi questo non lo possiamo permettere i nazisti consideravano gli embrei come dei senza padre che potevano contaminare con il loro sangue impuro gli altri popoli in particolare quello tedesco erano i responsabili della crisi economica impegnati ad accumulare grossi capitali contro la comunità ebraica si scatenarono violenze e culminarono nella cosiddetta notte dei cristalli questo è da ricordare del 38 la notte dei cristalli è quella notte in cui la polizia nazista distrusse in vari paesi in Germania oltre a Cercoslovacchia distrusse oltre 7000 negozi rompendo le vetrine ma non fu soltanto un atto di vandalismo perché molti di questi ebrei vennero picchiati impregionati e uccisi a proposito del pregiudizio anti-ebraico vi ho segnato a fine pagina 218 qualche altro elemento della propaganda anti-ebraica che è bene ricordare non tutti inventati dai nazisti i nazisti avevano attinto a una tradizione lunga cristiana soprattutto medievale ma non solo anche dell'est Europa adesso la vediamo gli ebrei innanzitutto erano secondo la tradizione anti-ebraica gli uccisori di Cristo i responsabili della morte di Cristo quando Pilato chiede al popolo di Israele chi volete voi che io liberi Gesù o Barabba nel referendum ricordatevi un po' chi ha vinto Barabba e Gesù è stato crocifisso poi gli ebrei erano accusati di profanare le ostie cioè rubavano questa è una leggenda medievale rubavano le ostie nei tabernacoli delle chiese per utilizzarle nei loro riti satanici demoniaci pugnalavano le ostie per pugnalare così in quel modo il corpo di Cristo omicidi rituali a un certo punto si diffuse la leggenda che gli ebrei rapivano i bambini per utilizzarne il sangue impastarlo con del pane e insomma compiere dei rituali magici ma ovviamente sono tutte balle non devo neanche dirvelo spero venivano accusati di avvelenare i pozzi di fomentare le guerre molta di questa propaganda si basava su un piccolo opuscolo un libricino edito in Russia nella Russia nazarista che si intitolava i protocolli dei sette savi di Sion che era tutta roba inventata e subito se ne accorsero un giornale londinese lo smascherò apertamente pochi mesi dopo la pubblicazione comunque continuò e purtroppo continua ancora a girare questo opuscolo sostiene come vi dicevo prima che gli ebrei sono una superpotenza oscura mondiale legati tutti in una confraternita segreta che ha un unico scopo quello di sovvertire l'ordine geopolitico mondiale e creare un un superstato ebraico massonico comunista eccetera 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 poi parliamo di Hitler perché non dobbiamo perderci delle delle domande importanti secondo me ragazzi non siate passivi nei confronti della storia ponetevi delle domande cominciate a chiedervi ma a me no io la vostra età me lo chiedevo ma come mai 50 milioni tedeschi cioè persone tutto sommato ragionevoli con una grandissima cultura grandi filosofi matematici scienziati musicisti eccetera eccetera a un certo punto diventano dall'oggi al domani degli assassini dei dei fanatici delle persone che rappresentano nel novecento la storia dell'umanità il male assoluto come è di moda dire oggi risposta facile è colpa di Hitler è colpa di Hitler che con la sua carica di personalità magnetica con il suo fascino sulle folle convince 50 milioni tedeschi a impazzire più di lui questa è una risposta però molto facile è troppo facile dare la colpa a una persona ci fu un sistema alle spalle di Hitler che eseguì in modo molto meticoloso tutti i suoi ordini non era Hitler in prima persona questo voglio dire e quindi cominciamo adesso a conoscere meglio questo personaggio le sue arti ammaliatrici oratorie di fascinazione delle masse e poi vedremo di approfondire un po' questo interrogativo che vi ho buttato lì allora a coronamento dell'ideologia nazista stava il bito del Führer il capo indiscusso e carismatico della comunità nazionale tedesca e egli in quanto depositario supremo della volontà del popolo era la fonte primaria del diritto e per questo si doveva a lui obbedienza e dedizione assoluta c'era il ministro della giustizia tedesco che dice che scriveva la frase il Führer ordina il Führer sconsiglia il Führer vieta era una specie di chiave magica che apriva tutte le porte che consentiva di fare qualunque cosa se il Führer desiderava o trovava riprovevole istantaneamente anche se senza scriverci una legge apposita tutti si adeguavano alla sua volontà vi ho preparato qualche immagine ecco qui la scenografia ideata da Speer l'architetto di Hitler vedete il Führer è al centro vestito in modo molto semplice scenografia estremamente elaborata questo in cima al al trono il presidente dell'assemblea che è Goering lo conosceremo meglio dopo poi qualche altra immagine di Hitler nei discorsi nei comizi notate come tiene il corpo e la scenografia lui piccolo uomo semplice ma attorno a una scenografia molto elaborata simboli onnipresenti per conoscerlo meglio vediamo qualche pezzetto dei suoi di un suo discorso è un discorso del 33 scusate come al solito lo faccio andare a velocità massima ecco è un discorso al partito lui sta parlando non a cittadini normali ma a membri del suo partito ci ricordiamo tutti almeno io mi ricordo quando il nostro partito negli anni 20 aveva soltanto sette iscritti il solo e unico potere in Germania notate le lunghe pause tra un concetto tra un concetto e l'altro in modo che il pubblico possa assimilare le sue parole il silenzio che serve per richiamare l'attenzione se l'oratore principale sta in silenzio significa che sta richiamando l'attenzione su di sé quindi noi che siamo la razza migliore dobbiamo essere orgogliosi e chiedere per noi il potere assoluto e poi scusate andiamo avanti un po' che c'è un'altra parte che mi interessava da analizzare ecco questo è il vescovo della chiesa evangelica tedesca un'altra parte È molto rigido col corpo, è molto chiuso, se notate di solito muove una mano sola. Quindi non è un partito politico, è una religione, è un ordine sacro. Quindi tutti i tedeschi sono nazisti, ma soltanto i nazisti migliori possono essere membri del partito. Allora, allora, allora. Allora, 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 allora. Allora, 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 all Stiamo fondando un Reich, il terzo, che durerà mille anni, che si baserà sulla razza, sul sangue tedesco, sulla dominazione delle razze inferiori e anche su un'idea di pangermanesimo, cioè una grande Germania che racchiuda tutti i cittadini ariani, sia che si trovino in Austria, sia che si trovino in altri stati, non fa niente. Noi dobbiamo espanderci in modo che tutti i tedeschi facciano parte della grande Germania, di questo grande impero millenario, erede degli ariani. Bene, cioè bene, insomma. Questo è un po', e questa è la capacità di Hitler di affascinare. Io per preparare questa lezione, vi dico la verità, mi sono guardato tre o quattro discorsi di Hitler e devo dire che è estremamente capace come erratore, è affascinante. Se uno non sapesse che tutte quelle idee hanno portato alla seconda guerra mondiale, alla distruzione, alla negazione dei principi democratici, tra l'altro, di tolleranza, vita civile, eccetera, 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 direbbe, guarda, mi ha quasi convinto. Moltissime persone di valore, molto capaci, sono state affascinate proprio durante questi comizi e sono entrati a far parte del regime nazista proprio dopo un'esperienza che loro definivano quasi mistica, quasi religiosa, di ascolto dei discorsi di Hitler. Addirittura Hitler fu il primo, pesate un po', fu il primo politico mondiale ad acquistare un aereo privato per poter viaggiare molto più velocemente da una parte e dall'altra del paese e tenere tre comizi al giorno invece che uno ogni due giorni muovendosi col treno. Era instancabile, era un uomo instancabile nella sua opera di propaganda, addirittura era in grado di mantenersi fermo, immobile, con il braccio teso, per ore, suscitando lo stupore persino dei suoi collaboratori che dicevano ma come fai a tenere il braccio ovviamente teso nel saluto nazista per un'ora, un'ora, un quarto, un'ora e venti per tutta la durata della parata, che erano lunghissime. La risposta era semplicemente grande forza di volontà. Le mie idee hanno la meglio sul mio corpo. E con questo ovviamente non voglio indicarvi Hitler come un modello, voglio solo cercare di analizzare insieme a voi i motivi per cui un uomo che era stato un artista mancato, che non aveva mai avuto un lavoro regolare, che aveva fatto un colpo di stato, insomma, finito molto male con la galera, eccetera, eccetera, diventa, non a un certo punto, così di punto in bianco, ma diventa, però grazie a queste capacità il leader è discusso di un grandissimo paese. Adesso andiamo a pagina 220 e leggiamo qualche cosina di queste leggi di Norimberga, del 35. Sono paragonabili un po' le leggi fascistissime del fascismo, ok? Le leggi di Norimberga, o le leggi razziali anche del fascismo, meglio. Prima di tutto si stabilisce che cos'è un cittadino del Reich, della Germania. Un cittadino del Reich non è una questione di passaporto, è una questione di sangue, appartenente allo stato di sangue tedesco. Il cittadino del Reich è il solo depositario dei pieni diritti politici e norme di legge. Quindi devi avere il sangue tedesco, il sangue ariano, e poi tra l'altro devi, col tuo comportamento, dare prova di essere disposto ad adottare e servire fedelmente il popolo, il Reich tedesco. Se noi ariani siamo i tedeschi, gli unici depositari dei diritti politici, allora gli altri cosa sono? Sono ovviamente inferiori e hanno dei diritti, ma meno di noi. Poi alla fine non ne avranno proprio nessuno, neanche il diritto alla vita. Gli ebrei in particolar modo sono proibiti i matrimoni, tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco a fine. I matrimoni già celebrati sono nulli. Immaginate un po' qualcuno a vent'anni che era sposato con un uomo ariano, tra virgolette, una donna ebrea, si trovavano con il matrimonio nullo e i figli illegitti. I rapporti estrematrimoniali tra ebrei e cittadini fuori dal matrimonio sono proibiti. Gli ebrei non possono assumere delle domestiche ariane sotto i 45 anni. E' proibito di inalzare la bandiera del Reich. E ovviamente le punizioni sono molto dure. E' il carcere duro, il carcere duro, la multa, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, nella Costituzione italiana, se vogliamo fare un paragone, dopo tutto quello che è successo, quindi l'esperienza di totalitarismi, della Seconda Guerra Mondiale, si è visto che quella strada non portava a cogliere buoni frutti e quindi la Costituzione dell'Italia repubblicana va in tutt'altra direzione. È un segno completamente opposto. Se l'intolleranza e il razzismo ci hanno portato alla distruzione, proviamo a fare il contrario e vediamo se funziona meglio. La storia ha dato ragione ai padri costituenti, quelli che hanno scritto la Costituzione italiana. In effetti ha funzionato meglio. Quali sono le idee che hanno funzionato meglio, che hanno dato all'Italia nel bene o nel male 70 anni di pace e di benessere crescente e di diritti in un'estensione crescente? Lo conoscete questo articolo? Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica ribuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza, la libertà. Vabbè, ci sarebbe tantissimo da dire su questo articolo, ma lo lasciamo così perché non c'è il tempo. Hitler progetta lo sterminio degli ebrei, lo sappiamo, era inevitabile. Se parti da quell'idea lì, poi arrivi alle leggi di Nuremberg nel 35, togli ogni diritto, comincia a togliere i diritti agli ebrei e poi, e poi ovviamente, l'esito è quello, è quello, è lo sterminio. A partire dagli anni Trenta, la persecuzione antisemita divenne sempre più dura, fino ad arrivare allo sterminio degli ebrei. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si passò dalla semplice esclusione alla loro concentrazione, cioè alla deportazione nei campi di concentramento, lager, venivano chiamati, dove moltissimi di loro vennero poi eliminati fisicamente. Il primo fu quello di Dachau, gesto dall'SS, il più noto è quello di Auschwitz, l'avete già sentito tutti nella giornata alla memoria, dove vennero inizialmente sfruttati questi prigionieri, non c'erano solo ebrei, ma vi ripeto, c'erano omosessuali, oppositori politici, zingari, eccetera, eccetera, e vennero sfruttati nelle fabbriche poste all'interno dei campi di concentramento, e poi i campi di concentramento divennero essi stessi delle fabbriche della morte, in cui venivano uccise i prigionieri e i loro corpi erano smaltiti in modi efficienti e rapidi. Qui a pagina 222 ci sono un po' di immagini che conviene ricordare, alcuni volti che conviene ricordare. Bormann, segretario personale di Hitler, Goebbels, quello che abbiamo visto prima, il ministro della propaganda, quello col piede piatto, un po' zoppo, questo qui è Goering, eroe della Prima Guerra Mondiale, divenne ammiraglio, o come si dice, della Luftwaffe, che è l'aeronautica tedesca, succese in carcere nel 1946, Speer, quello di cui vi parlavo prima, l'architetto di Hitler, divenne poi ministro degli armamenti, Ribbentrop, lo vedremo poi, firmò un patto di alleanza con Stalin, e Himmler, che fu il ministro degli interni, cioè il ministro della polizia, del Reich, e quello, uno dei protagonisti, dei principali progettisti della soluzione finale, cioè lo sterminio degli ebrei. Allora, ecco, scusate ragazzi, prima di arrivare a pagina 223, ancora una brevissima riflessione, perché un'altra domanda che potreste porvi è come mai i soldi 50 milioni tedeschi, con una grande cultura, eccetera, eccetera, divennero dei carnefici, dei carnefici non tanto di nemici che invadevano il loro territorio, armati, indivise, eccetera, eccetera, ma di popolazioni inermi, donne, bambini, a pagina 221 abbiamo un'immagine molto significativa, ecco, ecco qui, il ghetto di Varsavia, in Polonia, in cui la popolazione ebraica fu rinchiusa e poi deportata nei campi di concentramento. Allora, la spiegazione che gli storici e gli psicologi ci danno è doppia. Cioè, come mai sono successe queste cose? Come mai i campi di concentramento? Come mai? Beh, la prima spiegazione è che c'era un'abitudine alla propaganda. Cioè, dopo anni e anni e anni di slogan ripetitivi e stereotipati, quelli che abbiamo visto prima, in cui veniva individuato un nemico esterno, il nemico esterno erano gli ebrei comunisti, tutti i guai della Germania erano colpa loro, e quindi eliminando loro si sarebbe finalmente realizzato un grande paese pangermanico che avrebbe dominato sul resto del mondo, la gente dopo un po' ha cominciato a crederci davvero. Soprattutto i più piccoli, ovviamente. Gli adulti che avevano già una formazione erano influenzabili, ma i ragazzi infinitamente di più, perché non avevano gli strumenti per difendersi dalla propaganda. E' uno dei motivi, tra l'altro, per cui nei paesi civili sono vietate le pubblicità all'interno dei programmi dedicati ai bambini, dei cartoni animati. Perché le pubblicità sono dei messaggi propagandistici molto sottili, che i bambini non possono rifiutare, di cui non hanno gli strumenti per difendersi. Immaginate una propaganda del calibro di quella nazista applicata per anni e anni e anni nelle scuole del Reich, nelle modalità che abbiamo visto prima. Quindi, primo punto, forte indottrinamento della popolazione. Libri, manifesti, scuola, dopolavoro, film, giornali, riviste, eccetera, eccetera, eccetera. Slogan stereotipati, ripetuti, in modo che tutti, dal conte, dal visconte, fino all'ultimo dei contadini, avessero in chiaro, nella testa, quelle quattro idee. Secondo punto della spiegazione è una spiegazione di tipo psicologico. Cioè, il popolo tedesco aveva, storicamente ha ancora, una grandissima abitudine a eseguire gli ordini senza discutere. I ragazzi tedeschi, ancora prima dell'avverivo di Hitler, erano abituati a obbedire ai genitori, in un rapporto molto formale, molto autoritario. Erano abituati a obbedire a scuola, ai professori, al parroco che gli faceva catechismo. Erano abituati a obbedire al capo ufficino, al capo ufficio, al sergente che li comandava nella prima guerra mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Quando gli ordini furono rivolti verso gli ebrei, quando l'ordine di intervenire in modo violento, in modo repressivo, fu rivolto contro gli ebrei, i tedeschi, non opposero resistenza. Perché? L'ideologia da una parte e l'abitudine ad obbedire dall'altra avevano reso, come dice una famosa espressione, un grande popolo, un esercito di volenterosi carnefici. I volenterosi carnefici di Hitler. Poi ovviamente ci sarà anche la crisi economica del 29, l'iperinflazione, il malessere, la perda del potere d'acquisto e tutte le altre cose che abbiamo visto. Ok? Altro approfondimento, lo so che sono noioso, ma altro approfondimento che se no non ci capiamo e non scappiamo di cosa stiamo parlando, in quelle tenebre. In quelle tenebre è un bellissimo romanzo, intervista, scritto da una giornalista rumena, mi pare, Gitta Sereni, che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale andò a intervistare questo signore qui, Franz Stangl. Franz Stangl, che era un militare tedesco, austriaco, era durante la guerra il direttore di due campi di concentramento famigerati, Sobibor, ma poi soprattutto Treblinka. In quelle tenebre è un romanzo che racconta delle visite, di numerosissime visite, 70, 80, non mi ricordo più, che questa giornalista fece in carcere, nel carcere di aver richiuso Franz Stangl. E per 70, 80 volte chiese a quest'uomo che aveva organizzato materialmente lo sterminio degli ebrei se mai si fosse sentito in colpa per quello che stava facendo, se mai avesse magari potuto fare qualcosa, per limitare la sofferenza di questi prigionieri. Per 70 volte Franz Stangl non risponde. Gita Sereni dice, ma sta a vedere che questo qui non mi risponde non perché si vergogna di quello che ha fatto, ma perché non ha capito la domanda. All'ultima intervista Franz Stangl un po' scocciato dice, ma senta, ma lei sono molti mesi che viene qui, mi parla e mi fa sempre la solita domanda. Mi sento in colpa, cosa provavo quando organizzavo lo sterminio? E la risposta è la risposta è agghiacciante, diceva io non ero incaricato di provare nulla, io eseguivo gli ordini, io avevo 5.000 prigionieri che arrivavano al mattino, questi prigionieri dovevano essere uccisi, i loro corpi dovevano essere bruciati, le cenere rimosse, a tarda mattinata arrivava un altro treno con altri 10.000 prigionieri e io dovevo organizzare questo lavoro in modo molto efficiente ed ero il più efficiente di tutti, c'era anche un orgoglio. C'era senso di colpa? No. La giornalista gli chiede ma anche i bastonamenti, anche le violenze, eccetera, la risposta è era un sistema che funzionava e quindi era immodificabile. Se funziona, se la macchina funziona, la macchina non si può modificare. E quindi cosa ci dice questa intervista? Ci dice che l'uomo nella società moderna, per questo ve lo dico ragazzi, anche oggi, è responsabile di ciò che fa. Franz Stangl diceva io ho eseguito gli ordini. Erano ordini agghiaccianti. però lui si è difeso con questa frase. Io ho eseguito gli ordini. Io non sono responsabile. Noi non siamo responsabili perché siamo organi di apparati burocratici meccanici della società. Vi faccio un esempio così magari ci capiamo meglio. Una persona che nel Bresciano oggi con i tempi del virus eccetera eccetera lavora in una fabbrica che produce mine anti-uomo è responsabile di ciò che fa. Pensateci un po'. Mine anti-uomo che vengono vendute paesi in guerra che fanno saltare di solito le gambe a pochi soldati e a moltissimi contadini che vanno per i campi. se questa persona se questo operaio si ribellasse e lavorasse male mettesse dei difetti nel nel pezzo che produce in modo che queste mine non esplodessero che non le mine non esplodano sarebbe un buon operaio o un cattivo operaio? Io non ho una risposta eh lo chiedo a voi. Bene vi lascio con con questi interrogativi eh che però dobbiamo porci visto che la storia non è un elenco di cose che sono successe ma delle cose che sono successe che potrebbero succedere ancora e quindi meglio rifletterci eh sulla responsabilità individuale su quello che ci dicono di fare ma anche sul senso di ciò che stiamo facendo non soltanto sugli ordini che ci arrivano. Poi andiamo avanti diamo una panoramica diamo uno sguardo panoramico a cosa succede nel resto d'Europa. La febbre delle dittature dilaga in Europa. Io ho preparato una mappa ragazzi che è questa qui ecco la ingrandiamo un po' eh e allora qui in giallo si vedono eh le democrazie nel 30 negli anni 30 ecco nel 33 e in azzurro le dittature e poi in rosso ovviamente l'Unione Sovietica che era un'altra cosa. Ok? Quindi vedete che molti paesi democratici non lo sono alla fine della guerra della prima guerra mondiale non lo sono più. Eh? L'Italia l'Austria l'Ungheria la Polonia eccetera 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 poi andiamo un po' a vedere eh è un'epoca di dittatura questi nuovi regimi sostenuti dall'esercito dai conservatori specchiavano in soddisfazione popolare su questioni legate al prestigio internazionale rispondevano esigenze di un'internazionale bla 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 andiamo a vedere l'Ungheria fu il primo paese europeo a vedere la nascita di una dittatura Miklos Horthy instaurò nel paese un regime autoritario io ho meno preparato le foto eh meno vederli in faccia eh questo qui dittatore ungherese poi Austria il cancelliere cattolico Engelbert Dolfus che instaurò un regime autoritario ma venne ucciso dai nazisti perché non era non era abbastanza filo tedesco eh eccolo qui poi in Polonia il copo di stato del maresciallo Pilsudski che instaurò un governo forte ma non una dittatura ma la Polonia è uno stato è un paese particolarmente di destra c'erano forti spinte antisemite cioè contro gli ebrei questo è il di una bruttezza sconvolgente eccolo qui è una bruttezza veramente sconvolgente quest'uomo la Polonia era un regime autoritario regime un po' particolare vi racconto solo un episodio quando nel 39 Hitler stava per invadere la Polonia e comunicarono l'ambasciatore polacco guardi che i armati i panzer tedeschi stanno sfondando reticolati stanno invadendo il vostro paese la risposta dell'ambasciatore polacco fu no 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 è un solo un'apparenza in realtà siamo noi polacchi che invaderemo la Germania e vinceremo la guerra in brevissimo tempo questa era un po' l'aria che tirava in Polonia in in questo periodo le repubbliche le repubbliche baltiche la Lituania e l'Estonia e l'Ettuonia diventano tutte di destra stessa cosa succede per la Grecia Spagna e Portogallo è una storia ancora più triste perché in Spagna esisteva una repubblica una repubblica democraticamente eletta di centro-sinistra che fu vittima del colpo di stato di questo signore qui il generale Franco anche detto il caudillo il condottiero il capo che con l'appoggio dell'esercito con l'appoggio dei grandi proprietari terrieri con l'appoggio anche soprattutto della chiesa dell'Italia e della Germania nel giro di pochi mesi sconfisse l'esercito repubblicano spagnolo cioè i volontari che volevano difendere la repubblica e instaurò una dittatura di destra di estrema destra che durò fino a metà degli anni 70 quindi che superò tranquillamente la seconda guerra mondiale anche perché la Spagna rimase neutrale e arrivò fino a metà degli anni 70 e Francisco Franco è morto tranquillamente nel suo letto con i conforti della fede del vescovo di Madrid infatti come vi dicevo Hitler e Mussolini inviarono aiuti militari a Franco l'aviazione gli esercito le armi eccetera eccetera è molto interessante l'esperienza spagnola perché vide la formazione di brigate internazionali a difesa della Spagna cioè visto che stavano succedendo quelle cose in Spagna che c'era una dittatura di destra che stava cercando di combattere la repubblica spagnola cosa fecero molti volontari italiani francesi anche tedeschi inglesi americani presero il treno l'aereo la nave e andarono a combattere a favore della repubblica spagnola fu una guerra tremenda non c'era speranza perché erano dei guerriglieri che vivevano nei boschi che dovevano fronteggiare un esercito con aviazione comandanti rifornimenti munizioni catene di comando radio eccetera eccetera ma fu un'esperienza politica importantissima per l'Europa perché perché la guerra civile spagnola fu una specie di prova generale della seconda guerra mondiale le dittature contro le democrazie gli eserciti che sembravano invincibili armati preponderanti molto efficienti contro eserciti più raffazzonati meno meno forti sulla carta che però con tenacia almeno nella seconda guerra mondiale hanno avuto la meglio sui totalitarismi ok ricordo a questo proposito della guerra civile spagnola collegamento anche per l'esame interessante con storia dell'arte Picasso venne a sapere perché ne parlarono tutti i giornali del mondo del bombardamento da parte dell'aviazione tedesca di una cittadina guernica una cittadina basca in Spagna che provocò la morte di moltissimi civili oltre 2000 civili soprattutto donne e bambini testò molto scalpore perché fu il primo bombardamento non su obiettivi militari ma su obiettivi civili all'unico scopo di provocare il terrore nella popolazione Picasso venne rimase molto impressionato da questa notizia come tanti altri alla sua epoca disegnò in fretta e furia questo questa tela è enorme tre o quattro metri che rappresenta appunto il bombardamento di questa città poi se volete lo analizzate con la prof di educazione artistica adesso non abbiamo tempo qui c'è una brevissima analisi anche in Portogallo nasce un regime autoritario che supera tranquillamente la seconda guerra mondiale arriva fino agli anni 70 ultimissima pagina promesso Regno Unito e Francia restano a difesa della democrazia come abbiamo visto prima erano le uniche grandi democrazie rimaste oltre ovviamente agli Stati Uniti ma hanno anche loro le loro gatte da pelare negli anni 20 anzi nel 19 c'è la questione irlandese eccola qui vedete l'Irlanda fino al 1919 faceva tutta parte del Regno Unito dopo movimenti di ribellione terrorismo eccetera eccetera l'Irlanda si stacca dal Regno Unito rimane soltanto il Nord Irlanda che fa ancora parte oggi del Regno Unito tra l'altro ciò dà molti problemi riguardo alla Brexit perché il Regno Unito è uscito dall'Europa ma l'Irlanda no poi cos'è che vi ho preparato ah ecco poi dicevo e quindi c'è questa secessione del Regno d'Irlanda in Francia c'è una fortissima crisi economica i governi di destra non la sanno risolvere viene eletto Leon Blum quello del fronte popolare il front populaire come dicevano i tempi il front popu che generò grandissimi sogni grandissime grandissime speranze in Europa fu un governo che durò poco durò soltanto due anni ma riuscì a portare avanti delle riforme importantissime ad esempio il diritto alle ferie la riduzione dell'orario di lavoro l'aumento dei salari eccetera 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 cioè dei provvedimenti a favore delle masse popolari e operai come vi dicevo prima Francia e Inghilterra rimasero gli ultimi due baluardi a difendere gli ideali democratici in Europa vediamo almeno che faccia aveva Leon Blu eccolo qui leader del front popu io vi consiglio ragazzi di guardare per farci un'idea chiara un po' più chiara ho scelto due documentari che poi vi metto in link questo è un documentario più tradizionale che mi piace abbastanza guardatelo fino al minuto 45 perché poi parla della seconda vera mondiale fa una bella carrellata su quello che era la vita sotto il regime nazionale nazista e la politica nazista poi per i più appassionati quelli che vogliono approfondire un po' di più è molto interessante davvero molto interessante questo documentario la grande storia il nazismo visto da storico Norman Holler che parla sono due o tre capitoli parla di aspetti un po' meno conosciuti ad esempio il fatto che nel corso degli anni venti la Germania diventa il primo produttore al mondo di morfina e cocaina e a un certo punto viene un'azienda farmaceutica tedesca addirittura inventa un nuovo tipo di droga che si chiama Pervitin che serve per restare svegli per essere più lucidi più efficienti che a un certo punto inonda il mercato tedesco viene addirittura inserito nei prodotti come la la cioccolata fondente con il ripieno di Pervitin questi sono i due documentari che tra i molti che esistono ho scelto perché sono anche i meno meno pesanti meno meno truci insomma hanno meno scene raccapriccianti che potrebbero turbare i nostri i nostri sonni anche se non dobbiamo non dobbiamo chiudere gli occhi semplicemente perché fanno paura ok bene e io vi ringrazio per l'attenzione spero di non essere stato troppo noioso arrivederci a presto e buona giornata a tutti